Oggi, domenica 7 febbraio, in Abruzzo sono 436 nuovi positivi al covid-19, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, che portano il totale a 45.409 persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia. 25 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 157 in quella di Chieti, 161 a Pescara, 87 in provincia di Teramo, con 6 residenti fuori regione o con residenze in accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore 4.756 tamponi molecolari e 8.827 test antigenici, complessivamente 13.583 con un tasso di positività del 3,2%. 11 pazienti deceduti con il totale salito a 1.513 e 32.919 guariti, soltanto uno in più nelle ultime 24 ore. Pertanto, sono 10.976 gli attualmente positivi, più 424 rispetto a ieri. Continua a salire la pressione sugli ospedali, 470 ad oggi ricoverati in area medica, più 9 rispetto a ieri. 51 quelli in terapia di intensiva, due in più, con 10.455 positivi in isolamento domiciliare, più 413 nelle ultime 24 ore. Intanto è stata emanata dal presidente della regione Marco Marsilio un'ordinanza correttiva e integrativa per i tre comuni in zona rossa in Abruzzo, a seguito delle difficoltà interpretative riguardanti l'entrata e l'uscita dai comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria. Anche a seguito di un confronto con i sindaci interessati, si è ritenuto opportuno riscrivere i punti relativi alla disciplina da adottare per evitare che si potesse ingenerare una qualche confusione. Con la nuova ordinanza si ribadisce e chiarisce che, nei comuni in zona rossa, vigono le regole previste a livello nazionale dal DPCM che consentono a tutti di recarsi al proprio posto di lavoro. I sindaci hanno in deroga a tale disciplina anche il potere di autorizzare o vietare l'ingresso o l'uscita dal proprio comune laddove esigenze di tutela della salute pubblica e oppure urgenze indifferibili lo rendano necessario.